Buongiorno, sono Silvia Valerio, lavoro nella Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Ferrovie dello Stato italiane. La nostra azienda partecipa sempre a questi eventi su tutto il territorio nazionale perché sono un motivo per incontrare sicuramente tanti giovani interessati ad entrare a lavorare presso la nostra azienda. Le posizioni maggiormente richieste in questo momento sono nell'ambito dell'ingegneria, in giurisprudenza e in economia. Venire al job meeting è un'opportunità per conoscere le aziende, in questo modo noi possiamo orientare i ragazzi, dare loro dei consigli, vedere il CV e dare quindi tutte le indicazioni di cui hanno bisogno.